Pasta salmone, pomodorini e zucchine La pasta salmone, pomodorini e zucchine è un piatto fresco e delicato, perfetto per ogni stagione. Si consiglia l'uso di linguine o spaghetti. Preparare questo piatto è semplice e veloce. Bastano 20 minuti per la preparazione e 10 per la cottura. Ideale per chi ha poco tempo. Gli ingredienti principali sono salmone, zucchine e pomodorini. Si può optare per salmone affumicato o fresco, consigliamo quest'ultimo. Per una pasta al dente scottatela con il sugo a fuoco alto per qualche minuto. Ottima servita calda o fredda, abbinata a un buon prosecco.